Dopo la notte di paura con le due risse scoppiate tra ospiti afghani e pakistani, al centro per i chidenti asilo di Gradisca la situazione è tornata sotto controllo, ma è sempre monitorata dalle forze di polizia presenti all'interno dell'ex caserma. Finora la convivenza tra i migrati era stata abbastanza tranquilla, ma come sottolinea il sindaco di Gradisca di Zonzo, Linda Tomasinsic, il concentramento di tante persone in una struttura, pensata per ben altri numeri, è una polveriera. Diciamo che mette un po' la luce quella che è la situazione di questa struttura, una struttura che accoglie ormai più di 500 persone, era stata pensata per molte meno persone, per 200, anzi 138 all'inizio, è stata nel corso degli anni via via ampliata, però purtroppo sono venute alla luce le problematiche dell'affolamento sostanzialmente, quindi le persone che si trovano a convivere a lungo in strutture molto grandi, con una prospettiva di attesa di diversi mesi, con poche cose da fare durante il giorno, sono più soggette, più suscettibili anche di essere coinvolti in episodi di questo tipo, che sono episodi che accadono laddove persone sono costrette a convivere in spazi anche ristretti. Gli scontri tra i migrati sono avvenuti in un momento particolare, di pochi giorni fa l'annuncio del Ministero dell'Interno di voler collocare proprio a Gradisca uno degli 11 CPR, centri per i rimpatri, in Italia. La preoccupazione del sindaco, condivisa dalla Presidente della Regione Serracchiani, è che la nuova struttura si aggiunga a quella già esistente, al contrario, spiega la prima cittadina, è importante che sia prima svuotato il CARA. Noi chiediamo che le strutture di accoglienza per grandi numeri siano riviste, superate, mentre si passi ad un'accoglienza per numeri più piccoli di persone, che potrebbe essere più facilmente gestibile.